Allora, continuiamo a fare qualche esercizietto sulle curve e sul terreno del D. Quindi, per esempio, trovare il vettore tangente alla curva gamma, che è definita implicitamente x quadro più 3y quadro uguale a 4. Vabbè, questo non è un curva molto difficile, che evidentemente mi disse, però facciamolo in astratto, se esiste, ma abbiamo già chiarito che questo esiste, e scrivere l'equazione della retta tangente in 1.2.0. Quindi, intanto al solito definiamo una f in maniera che questo sia un logo di 0, quindi chiamiamo una f di xy uguale a x quadro più 3y quadro meno 4. Ovviamente io lo scrivo sempre come se fosse un logo di 0, perché il denunciato del termine è quello, ma in realtà uno potrebbe semplicemente scrivere f di xy uguale a questo, la curva è f di xy uguale a 4, quindi non è un logo di 0. Se volete, è un logo di 4, insomma, però non cambia niente. Tanto quello che conta poi è la regolarità, e la regolarità non dipende da questa, e le derivate, e questo quindi le derivate scompare. Ora lo facciamo in maniera, diciamo, come si deve, ma poi, diciamo, una volta che abbiamo preso un po' di mano, si può essere anche un pochino più, un pochino meno rigorosi sulle notazioni una volta che si è capito quello che si sta facendo. Comunque, però, lo facciamo in maniera super rigorosa. Quindi a questo punto, gamma è il logo di 0, è scritto appunto il logo di 4. Il logo di 0 di questa funzione, sappiamo che f di xy è c1, questo è polinomio, quindi non ci sono nessun problemi, quindi 2, vediamo la seconda condizione, cioè guardiamo la derivata, df su dx è 2x, df su dy è 6y, quando è che è 0, quindi il gradiente di f è uguale a 0, se è solo 6, xy fa 0, cioè sia x sia y sono tutti 2 e 0. Quindi l'unico punto in cui questo gradiente si annulla completamente, cioè annulla tutte e due le sue componenti è nell'origine, ma nell'origine f di 0, 0 fa meno 4, che non è 0, quindi 0, 0 non appartiene a gamma. Quindi ho fatto un po' l'inverso di quello che uno faceva prima, no? Cioè se io vi chiedo di vedere se in un certo punto la curva si può scrivere, uno farà la derivata in quel punto e guarda se sono 0. Sapere se questa curva è regolare in ogni punto, la cosa più facile è vedere in generale questo gradiente dove si annulla, trovare tutti i punti in cui si annulla e poi andare a vedere se per caso questi punti stanno nella curva di livello. Questo non sta nella curva di livello, che non sta nella funzione, non appartiene a questa funzione, e quindi in tutti gli altri punti il gradiente non è 0. È una maniera più facile per controllare tutti i punti una volta sola. Quindi gamma, ovunque, regolare, e si può scrivere il tangente. Come si fa a scrivere il tangente? Allora, per esempio, prendiamo un punto nel punto x con 0, fissiamo per fissare le idee. Cioè, malchiamo il punto generico come x con 0, y con 0, almeno si sa che questi stanno fissi e non si muovono. Si distingue bene cos'è variabile e cos'è non variabile. Allora, vediamo cosa succede. Se f, y di x con 0, y con 0 è diverso da 0, quindi, nello specifico, se y è diverso da 0, ma a questo punto non ci importa, se questo è diverso da 0, allora, vicino a x con 0, y con 0, gamma si scrive come y, scriviamo per bene, si scrive come y uguale a f di x. Cioè, si riesce a esplicitare la y rispetto alla x e, se vogliamo, poi f' di x con 0 è meno fx di x con 0, y con 0 fratto f y di x con 0, y con 0. Cioè, f' di x con 0, quindi sarà meno 2x con 0 fratto 6y con 0. Allora, posso parametrizzare, siccome vale questo, posso parametrizzare la mia curva gamma come la parametrizzo secondo x. È un grafico di una funzione, quindi la posso parametrizzare come x f di x. Allora, gamma punto, che è il vettore tangente di x con 0, quanto sarà? Sarà 1, la derivata di questa, e poi la derivata di x con 0, che è questo, meno 2x con 0 fratto 6y con 0. Questo è il vettore tangente nel punto x con 0 e y con 0 a patto che questo sia diverso da 0, quindi che la y sia diversa da 0. Ma ci sono altri punti, quando y è uguale a 0 ci possono essere dei punti comunque della curva e quindi facciamo anche l'altro caso. Poi li mettiamo insieme. se invece fx di x con 0 e y con 0 è diverso da 0 e siccome il credente non è nullo, un punto per forza o soddisfa la condizione di prima o soddisfa questa, quindi con questo sistemiamo tutti i punti, faccio lo stesso ragionamento. Allora esiste x uguale a g di y che descrive gamma e gamma maiuscolo, quindi posso definire beta di y, questa volta parametrizzo, questa è una g, quindi parametrizzo con la variabile y, quindi è y g di y parametrizzo gamma vicino x con 0 e y con 0, quindi beta primo di y, cioè g primo di y nel punto y con 0, 1, cioè g primo chi è? è meno f, y, f grande o se volete, sì, meno f, y di x con 0 e y con 0 fratto fx di x con 0 e y con 0 di x con 0 però x con 0 e y con 0, 1, cioè meno 6y con 0 fratto 2x con 0, 1. Quindi questo è il vettore tangente nell'altro caso. Ora proviamo a metterli insieme, in definitiva voglio dire, questi due saranno parenti per forza perché in un punto che ha tutte e due le quantità diverse dal 0 io posso agire in un modo o nell'altro e devo trovare un vettore comunque tangente, quindi come saranno? Saranno paralleli, ma si vede che sono paralleli perché questo e questo diciamo sono se volete uno l'inverso non è proprio l'inverso però praticamente scambiamo le coordinate scambiamo il prodotto e mettiamo quindi c'è una maniera di scriverli tutti e due nella stessa maniera cioè se moltiplico questo per 2x con 0 per meno 2x con 0 e moltiplico questo per 6y con 0 ottengo lo stesso vettore. Quindi in definitiva v uguale a fy meno fx sempre in punto x con 0 y con 0 x con 0 y con 0 cioè 6y con 0 meno 2x con 0 è vettore tangente tangente per ogni x con 0 y con 0 cioè scritto così lo sistemiamo una volta per tutte questo perché qui non c'è problema di dividere quindi se uno di queste è 0 non importa ok l'abbiamo scritto così che se volete si poteva anche vedere perché questo oggetto è il vettore che è ovviamente perpendicolare al prodiente che avete tenuto scambiando le coordinate e mettete un meno quindi c'è un'altra maniera di vederlo comunque questo è il vettore tangente infatti cioè diciamo è una maniera di scrivere il vettore tangente che va bene per tutti gli x con 0 e y con 0 infatti v è perpendicolare al gamma punto e è perpendicolare al beta punto cioè è solo questione di rimortificare per questi 6 y con 0 2 x con 0 a seconda di quale vettore prendete notate che questo è un punto cioè x con 0 e y con 0 sono fissati quindi non sono variabili per questo ho messo i puntini sulle che ho scritto le variabili come vi dicevo prima un'altra maniera di vederlo è scriviamolo così rimane rimane in insomma a futura memoria soluzione alternativa gradiente di f in x con 0 y con 0 è 2 x con 0 6 y con 0 e gradiente di f perpendicolare al gamma in x con 0 y con 0 quindi basta trovare v perpendicolare di f per avere il tangente ma v perpendicolare di f è la cosa più facile quando avete un vettore in due dimensioni la cosa più facile il vettore perpendicolare scambiate e mettete un meno in modo che il prodotto scalare da subito 0 quindi v uguale a 6 y con 0 meno 2 x con 0 è il vettore tangente ok? vediamo il punto 2 quindi tutta questa roba qui era il punto 1 punto A vediamo il B cioè quanto retta tangente 2 e 0 allora i vettori tangenti li abbiamo già scritti quindi il vettore V nel punto 2 è 0 ovviamente è un v di x con 0 e y con 0 anche se non ho scritto la dipendenza quindi nel punto 2 e 0 viene 0 perché la y è 0 meno 4 v nel punto 2 e 0 è 0 meno 4 allora retta tangente retta tangente in forma parametrica è x y uguale il punto 2 e 0 più lambda volte 0 meno 4 al variare di lambda in R ok ora come si fa in forma cartesiana in forma cartesiana l'equazione è x uguale a 2 perché x uguale a 2 perché dalla prima lettera la prima riga trovate x uguale a 2 perché più lambda per 0 la seconda retta trovate sulla seconda linea trovate y uguale a meno 4 lambda ma meno 4 lambda vuol dire che qualsiasi y quindi è qualsiasi y non donate le sue informazioni l'equazione che dà l'informazione della retta è questa quindi perché y uguale a meno 4 lambda vuol dire y qualsiasi quindi è il piano è la retta in su uguale a 2 una retta scusate verticale parallele a 6 y va bene questo l'abbiamo da questo esercizio ci ha detto tutto quello che ci poteva dire abbiamo imparato da questo l'imparabile quindi cambiamo esercizio questo è molto carino non è un esercizio semplicissimo quello che sto per fare ma è molto molto bellino perché vi dà una cosa un altro un nuovo strumento per per studiare le cose quindi come vi dicevo in queste ore di esercizio cerchiamo anche di accumulare strumenti anche un po' insoliti di indagine per poi aiutarli quando ci fanno conto quindi studiamo qualitativamente cosa vuol dire qualitativamente che cerchiamo di accumulare più informazioni possibili certamente non precise al dettaglio se no sarebbe quantitativamente però cerchiamo di capire un po' l'andamento della curva c uguale a e alla xy più x meno y meno e vicino a 1 allora soluzione intanto 1 1 appartiene a c questa è una cosa che fa sempre comodo verificare perché se uno avesse anche solo sbagliato il testo dell'esercizio uno dice vabbè 1 1 non appartiene alla curva l'esercizio è finito quindi l'esercizio quanto meno l'esercizio ha senso ok è inutile questo lo dovete per semplice verificare che è quello che mi si richiede ha senso si chiede un massimo minimo vediamo se esistono se non esistono si risparmia tempo è molto brutto produrre una soluzione di esercizio che non ha soluzione che vuol dire che state facendo le cose a testa bassa e oltretutto ci perdete un po' di tempo allora al solito chiamiamo f di x y sì questo magari uguale a 0 se non non ha tanto senso f di x y è e alla x y più x meno y meno e quindi c è uguale al solito f di x y uguale a 0 e usiamo dini per vedere la tangente a c in un numero perché ci interessa la tangente perché è un primo ordine dell'andamento se io sono la tangente so la tendenza di questa curva e poi so che la curva regolare eccetera eccetera allora il vettore tangente per esempio si può trovare schiamo il gradiente gradiente di f nel punto 1 1 e alla x y derivo rispetto a x quindi viene y e alla x più 1 derivo rispetto a y questo quindi viene x e alla y poi questo niente meno 1 abbiamo detto che lo calcoliamo in x uguale a 1 y uguale a 1 quindi è e più 1 e meno 1 quindi intanto quindi meno 1 c è regolare e per trovare il tangente faccio la cosa di prima cioè uso il il fatto che ho il perpendicolare alla curva e il tangente tangente è perpendicolare al dl quindi v sarà 1 meno e 1 più e che è questo ovviamente è diverso da 0 perché questo numero qui è positivo per esempio o cerchiamo un po' di capire come è fatto questa cosa qua per quello che ci importa e sta fra 2 e 3 diciamo posso prendere a questo livello per avere un'idea che è circa 2 se 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 preferite diciamo prendiamo non so arriva in fondo alla cosa si in fondo alla pagina si scrive prendiamo e che è circa 2 un'approssimazione molto grezza forse non è nemmeno la migliore la migliore sarebbe 3 ma non ci importa niente è giusto per avere un'idea quindi questo lo approssimiamo con meno 2 scusate meno 1 3 giusto per fare un disegno qualitativo è chiaro che l'espressione giusta è questa ma ora se voglio mettere se voglio fare un disegnino se voglio fare un disegnino e disegnare un grafico è chiaro che un numero 1 più e in un grafico che faccio a caso non ha tanto senso prendiamo questo cioè un grafico senza colorità di misura non precise questo ci dà la direzione cioè ci dice questo negativo che questo è positivo e che questo è più grande di questa un po' più grande e quindi la pendenza quindi il mio grafico come sarà partiamo dal punto 1 1 e ci appliciamo 2 meno 1 3 quindi si muove di meno 1 in qua e di 3 verso l'alto quindi questo è 1 e quindi il retto tangente è questa qui questa è la tangente a c in 1 1 quindi ad esempio cosa si può vedere? si può vedere che quindi vuol dire ad esempio in 1 1 c è grafico di y uguale a f di x questo si apriamo Daldini e f è decrescente perché? perché la tangente è messa in direzione di v ok? quindi la cura farà così così non so come l'attraversa ma è tangente un'altra maniera di vederlo ovviamente alternativa potevo scrivere y' di x come meno f e diciamo y' nel punto 1 era meno f x di 1 1 diviso fy di 1 1 quindi andate a riprendere questo era e meno 1 diviso e più 1 cambiato di segno cioè 1 meno e diviso 1 più e che è minore di 0 perché è più grande di 2 e quindi e quindi y' di x di nuovo decrescente ora che ho capito la decrescenza e ho anche disegnato con una certa approssimazione la pendenza di questa curva voglio diciamo questa è la parte curiosa voglio scrivere voglio trovare voglio capire diciamo la concavità in 1 1 allora cosa so so che f di x y di x è uguale a 0 questo è per il toriano del Dini se la curva si scrive come y di x uguale a f di x posso scriverla così quindi cosa posso scrivere posso scrivere che e alla x per y per y di x per y di x scrivere questa cosa qui per più x meno y di x meno e è uguale a 0 ok questa è un'identità vale per tutte le x vale diciamo vicino x uguale a 1 ovviamente se no poi questa scrittura non è detto che sia vera cioè non è detto che la y è un'ordinata della variabile x ma cosa faccio derivo in x allora quando derivo questo ora devo stare attento perché è un'esponenziale e alla x y di x per la derivata dell'argomento la derivata dell'argomento è un prodotto quindi è quando la derivata casca qui è y di x quando la derivata casca di qua è più x y primo di x poi derivo la x poi derivo la y derivo la e e derivo lo 0 cioè derivo da membro a membro se le due funzioni sono uguali le due derivate sono uguali osservazione ah e poi eh no osservazione siccome x uguale a 1 y di 1 x uguale a 1 cosa ottengo? ottengo che e e per 1 più y primo di x più 1 meno y primo di x uguale a 0 e meno scusate sto valutando in 1 più 1 meno y primo di 1 uguale a 0 e da qui e da qui e potevo ricavare da qui la cosa di prima y primo di 1 uguale a 1 meno e diviso 1 più quindi è una terza maniera di trovare la derivata prima in 1 va bene ma questo non mi interessa cioè al di là che è carino aver visto una terza maniera per trovare la derivata prima ma un'altra una cosa che mi piacerebbe è trovare la derivata seconda quindi prendo questo e derivo ancora in x allora qui ho la derivata di questo mi ridà un altro argomento di questo tipo qui quindi è e alla x e y per questo quindi ho un termine che è questo per questo al quadrato poi questo è un prodotto quindi deriverò lascerò questo e derivo questo che mi dà un y primo un altro y primo qui quando la derivata ciasca qui quindi un 2y primo più x y secondo 1 scompare meno y secondo quindi ho ottenuto abbiamo detto e alla x y di x per y di x più x y primo di x al quadrato più e alla x y di x abbiamo detto che otteniamo un 2 volte y primo di x più y secondo di x poi un meno y secondo di x e e poiché quando x è uguale a 1 y di 1 è uguale a 1 e y primo di 1 è 1 meno e diviso 1 più e ottengo e e per 1 più e diviso 1 più e al quadrato più e per 2 per 1 meno e diviso 1 più e più y più y secondo nel punto 1 quindi sostituiamo un x uguale a 1 andiamo ad allargare un po' il foglio se ci riesco ecco nel punto 1 così sono più preciso meno y secondo di 1 ora qui c'è da ammattire un po' con i calcoli cosa che io non faccio perché ho fatto anzi che ha fatto qualcuno per me perché questo esercizio l'ho copiato no però ho fatto anche ho anche rifatto i conti questo è uguale a 2 ed è quadro meno 3 fratto e meno 1 al cubo e questo è positivo perché e quadro sta fra 4 e 9 quindi quindi questo è più grande di 4 questo è positivo questo è più grande di 2 quindi questo è positivo e è positivo quindi questo è positivo quindi la funzione y di x è conversa in x uguale a 1 conversa e decrescente e abbiamo un altro conversa usiamo il termine in cui siete più familiari a concavità verso l'alto per x uguale a 1 quindi ora possiamo migliorare il disegno di prima perché avevamo 1 a 1 avevamo la retta tangente come l'avevo disegnata anche il colore l'avevo disegnata in giallo vabbè sarebbe dovuto passare facciamo così disegno prima la retta tangente al caso e poi ci metto 1 a 1 vogliamo un po' guardare anche un pochino più diritta eccoci qua qui c'è il punto 1 a 1 così chi vede il pdf sarà che sono stato precisissimo a disegnare così imparate a non seguire le lezioni disegniamo la curva c al concavità rivolta verso l'alto quindi vuol dire che sta tutta sopra questa retta tangente quindi è fatta più o meno in questa maniera questa è la curva c questa è la curva c vicino il punto 1 ok quindi diciamo qual è la morale di questo esercizio cioè la morale insomma la novità di questo esercizio che abbiamo usato il fatto che si possa scrivere la funzione come grafico è che questo grafico sostituito nell'equazione la realtà di ovviamente un'equazione costante per derivare anche successivamente e trovare i vari valori della derivata nel punto chiaramente ora questo qui è facile perché la funzione è scritta insomma perché torna bene perché il esercizio ovviamente viene fatto soltanto su due funzioni che tornino bene quindi magari alle volte questo punto qui viene molto più complicato che calcolarsi per esempio calcolare la derivata in questa maniera magari è più complicato che usare l'indini e la derivata seconda viene un casino che non siete capaci di divertire però è sempre un metodo in più che se imparate a usare vi può dare delle informazioni che non siete